Vogliamo ricordare, magari guardando delle immagini che riguardano un'occasione particolare che c'è stata quest'estate, in cui siamo stati coinvolti anche noi del Corriere la Sera, Canto per Milano. Che cosa è stato questo evento, peraltro realizzato in un posto veramente suggestivo, che sono i bagni misteriosi, c'è quest'aria con una piscina che è accanto al Teatro Franco Parenti. Allora, io ti ringrazio tantissimo di partire da lì. Il Canto per Milano era esattamente quello che ho voluto dire prima, cioè Milano, che sembrava un pugile suonato, ho voluto rimettere su quella pedana tutte le istituzioni culturali e dire parliamoci e facciamo qualcosa e non stiamo chiusi, perché il pubblico, quando noi abbiamo aperto, è venuto. Alcune serate nell'arena aperta, sono state mille persone distanziate. Abbiamo aperto d'estate i luoghi chiusi, tutti ci hanno detto ma no, sarà chiuso, nessuno verrà. Invece erano pieni teatri, perché anche subito dopo, appena ci hanno dato il permesso, allora se il ministro non vuol sentire che è il pubblico che vuol venire, è quello che ha detto importantissimo Balic, perché è la base, se tu non affronti il pubblico, non ti accorgi di quanto stai parlando ti addosso o stai parlando nel vuoto e quanto i giovani non vengono e ti spinge a trovare un modo di parlare con loro, che non vuol dire abbassare il livello di quello che proponi, vuol dire appassionarli. Lui ha usato una parola che mi piace moltissimo, che io ho fatto un posto che era contagiare bellezza. Poi mi ha detto per carità, per carità non usare la parola contagio. No, contagiare bellezza, contagiare passione, contagiare amore dello stare insieme a fruire delle cose belle. Se tu non hai questo confronto, ma di che cosa stiamo parlando? Noi siamo tutti i giorni messi in discussione, perché siamo un'arte del presente, il pubblico c'è e ci dice sì o no e se non c'è questo che cosa facciamo? Come in un acquario da soli. Allora questo, il canto per Milano era affrontiamo, si viene, poi abbiamo cercato di raccontare la storia di Milano tutte le volte che Milano è caduta e rinata. Naturalmente, siccome l'abbiamo fatto subito e non si poteva provare, perché i teatri erano chiusi non solo per il pubblico, ma non si poteva nemmeno entrare noi, perché dovevano stare chiusi, non si capisce, perché avevamo lasciato tutto, avevamo sanificato, non si poteva entrare. Allora forse, era un po' lungo, lo voglio rifare, perché il canto per Milano è un esempio nella storia, che vorrei portare anche nelle scuole, appunto ai giovani, piccoli, brevi, tutti riscritti da Schiavi, da De Bortoli, con la collaborazione del Corriere, è chiaro, poi che ci ha supportato. Abbiamo fatto, l'unica volta che abbiamo fatto un lancio in città con i manifesti è stato un canto per Milano, con tutti i colori, perché bisognava dire veniamo in allegria e mi dispiace che il Ministro non senta, perché lui parla di salute e parla di salute solo del corpo e di solito quando si parla di salute tutti ti dicono il potere che la mente ha sul corpo, eccetera. Non vorrei dire che cosa succede al cervello quando ascolta la musica, ormai la neuroscienza l'ha dimostrato, quando vivi un'emozione forte che ti arricchisce, cosa succede al cervello, dunque quali sono i segnali positivi che tu mandi, per cui lasciamo perdere, perché non voglio essere l'appassionale, ma ci sono delle cose ormai scientifiche che dimostrano questa cosa. E a parte la storia della salute che è completa, quando dice appunto bisogna, ma se gli spettatori entrano in teatro con le mascherine anche di una certa età, vuol dire che loro sanno che non stanno andando in giro nella mobilità, vanno a casa, perché il teatro è anche la casa degli spettatori che amano il teatro. E quello che ho fatto io, in 50 anni della mia vita, io ci ho messo 50 anni ad avere i pieni, a far sentire la gente a casa in un teatro, a farli stimolare, a farli avere fiducia, perché io faccio un sacco di compagnie da scoprire che non sono conosciute, non solo i grandi nomi, dunque si devono essere fidati, si sono fidati in questo momento. Allora dire che abbiamo avuto 75 mila presenze da quando ci hanno permesso di aprire e non un contagio, allora capisco che esiste la politica, esiste il governo, esiste tenere duro, se si aprivano i teatri e i cinema magari si doveva fare altre concessioni. Io non voglio discutere di quello che è stato fatto, ma rendersi conto che quello che è stato fatto ha un peso, non è una cosa che si può saltare così, poff, e si riapre fra un mese. Scusa questo sfogo, ma siccome ho evitato di mettere in difficoltà il mio amato corriere davanti al ministro, sicuramente ho taciuto. Lo sfogo è legittimo, sicuramente una cosa importante da dire è anche questa voglia di socialità e di ritrovarsi tutti assieme, del pubblico, non nostro. Noi non stiamo parlando perché i teatranti si devono esibire, noi sappiamo che la gente, infatti il governo dovrebbe preoccuparsi di quello che sta togliendo alla gente, non a noi. I soldi non vanno dati perché noi dobbiamo vivere, vanno dati perché la gente possa riempire le proprie solitudini quando vengono a teatro. È per i cittadini. Certamente. Allora, grazie, 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 grazie per questo sfogo che però è, vuol dire, è entrato proprio nel cuore del vostro lavoro, del vostro spirito, quindi possiamo anche finire qua perché tanto sappiamo della nuova stagione bisogna aspettare un mese, diciamo un mese e poi dopo potremo parlare delle nuove produzioni. Grazie, grazie a te Alessandro, grazie mille.